Nicola Molteni, perché lei dice che il governo tutela i carcerati e invece si dimentica dei disoccupati e gli esodati? Settimana scorsa il governo nel quinto svuoto a carceri ha stanziato 20 milioni di euro come rimborso, come risarcimento per i criminali, la cosiddetta paghetta, la mancia per i criminali e oggi il ministro Orlando ha stanziato 30 milioni di euro come incentivo, come sgravi fiscali alle aziende che assumono delinquenti, 50 milioni di euro per i criminali e 0 euro per i cassi integrati 0 euro per i pensionati, 0 euro per i disoccupati del nostro paese. Questo si conferma per l'ennesima volta come il governo che aiuta i criminali, che aiuta i clandestini e si disinteressa dei cittadini italiani che hanno bisogno. È una follia, la Lega è l'unica forza politica che denuncia questa vergogna da parte di questo governo.